Ciao amici di Studio 90 Italia, abbiamo parlato con lui qualche giorno fa telefonicamente, adesso lo tocco dal vivo di persona. È lui, Mudimbi, il suo mago che ci sta facendo ballare tantissimo. Ciao! Ciao a tutti! E oggi finalmente esibizione sul palco dell'Ariston. Esatto, oggi finalmente ci tocca. Ecco, io ero quella della domanda sulla scaramanzia, se vi ricordate quando abbiamo fatto l'intervista, adesso siamo qui, hai cambiato idea nel frattempo, no? No, assolutamente, sono sempre quello, della telefonica. Allora, sul palco quest'oggi cosa porterà Mudimbi a oltre? Ci saranno delle sorprese quando canterai? Non è che spuntorietta a Berti? Se te le dicessi che sorprese sarebbero. Uscirà domani il suo album, Michelle, quindi un album assolutamente da ascoltare, che conterrà? Che conterrà 14 tracce, tra cui Il Mago, un inedito che non sto qui a rivelarvi, che però onestamente credo che sia veramente una figata, perché a me piace veramente questa nuova canzone. E all'interno, tra l'altro, cosa che avevo dimenticato di dire, ci sarà un gioco da tavolo fatto da me, proprio disegnato, pensato anzi da me, che si basa proprio sulle 14 tracce dell'album, quindi vedete voi che dovete fare. Siamo molto curiosi di ascoltare e di andare a vedere un po' cosa ci sarà all'interno di quest'album, Michelle, che appunto esce domani, quindi mi raccomando acquistatelo, ma soprattutto oggi votate anche Mudimbi, perché il nostro sostegno è molto importante, soprattutto per il grande talento. Grazie mille, grazie mille per la fiducia a prescindere, poi magari ne riparliamo dopo l'esibizione e mi dici se ho soddisfatto le tue aspettative. Lo faremo senz'altro. Un'ultima domanda, Day Big, secondo te, chi vince il Festival di Sanremo? Eh, guarda, purtroppo non ho sentito neanche tutte le canzoni, perché qui si corre dalla mattina alla sera e la notte proprio crollo come un sasso nell'acqua, vado a picco. A me è piaciuto, e quando lo dico tutti si stupiscono, Red Canzian, perché io non me lo sarei aspettato, già non conosco, siamo due generazioni diverse, quindi non immaginavo nemmeno cosa potesse portare, ma immaginavo che fosse qualcosa di un po' troppo lontano dalle mie corde. E invece quando è proprio partito il pezzo a me è piaciuto. Però, ti ripeto, non ho sentito tutti gli altri, quindi vedrò di farmi una cultura. E per il momento, da Sanremo è tutto, aspettiamo con tanta energia il brano di Mudimbi durante la gara, durante il Festival, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao!